buonasera a tutti buonasera a tutti gli amigos degli espriglias nel mondo vedo che è arrivato anche andrea quindi aggiungo anche andrea ci senti andrea si benissimo voi ragazzi forte chiaro forte bene e quindi questa sera abbiamo il piacere di avere con noi oltre ormai a don paolo in versione solo l'ex ferguson che ormai è il nostro prezzemolino e compare è praticamente in ogni live abbiamo il piacere di avere andrea del bue per la prima volta credo in un live con gli espriglias e e giulia che invece ha già fatto una bellissima live con me dario ciao giulia ciao quindi se siete d'accordo lanciamo la sigla così lasciamo il tempo alla gente di collegarsi e dopo di che andiamo ad approfondire quello che è un po la vostra storia il vostro libro va bene perfetto ottimo ragazzi c'è la live dai su veloci sono alle quattro e mezza scusate figliuoli fermate tutto ma devo andare c'è la direzione del parma presto un altro anno in serie vi si gioca anche lunedì ma non si rimolla mai perché il parma siamo noi presto torna a casa è finita la partita vieni su youtube c'è la diretta degli espriglias che si vinca che si perda noi ci saremo sempre a urlare forza parma ragazzi andate col fiattone e non ci dite che si tratta solo di pallone e in fondo poi almeno dai ci sono gli aspriglias con la line allora buonasera a tutti come dicevo questa sera abbiamo il piacere e l'onore di avere Andrea e Giulia con noi ovviamente siamo in grandissimo conflitto di interesse come riserva con la Champions quindi questa sarà una live che poi i nostri amigos aspriglias si riprenderanno riprenderanno poi con calma ma io sono convinto che grazie alla presenza di Giulia gli diamo la paga anche alla Champions o comunque gli diamo del fio e la torcia chiedo subito ad Andrea cosa ne pensa della sigla perché Andrea è il fratello di Marco che è ben più famoso di te ovviamente che è anche guitarista del mio gruppo non dovrei dirlo infatti io in questo momento mi sento come l'Anna Ghiretti cioè la sorella della Giulia che ha la sorella famosa e quindi viene presentata come la sorella di io sono il fratello di in questo caso la sigla è bellissima grazie se guardi la extended version la extended version ci sono delle citazioni è molto divertente e peccato per il pacco di Matteo Caselli che aveva garantito la sua presenza stasera va bene lo perdoniamo beh ma noi conviviamo praticamente quotidianamente con i pacchi di Matteo Caselli quindi ormai potrebbe fare forse una trasmissione sui pacchi salutiamo Matteo tutti vediamo bene allora ragazzi noi andiamo totalmente a braccio stasera e quindi io la storia di Giulia ovviamente l'abbiamo già un po' approfondita però chiedevo magari prima ad Andrea e poi a Giulia di raccontarci come nasce questo libro che è la prima domanda poi che tutti noi ci poniamo allora diversamente da quanto si possa pensare sono io che l'ho menata Giulia per dire facciamo un libro all'inizio ho trovato diverse resistenze poi il covid nelle varie sfighe che ha diffuso nel mondo ha anche creato delle opportunità ha fatto anche cose buone ha fatto anche cose buone tra cui le varie sfighe annumeriamo gli aspriglias perché noi siamo nati a casa del covid siamo figli del covid esatto quindi voi siete la sfiga non l'opportunità mentre l'opportunità è stata quella che come dire che Giulia ha detto ma in effetti sai quell'idea lì ma se adesso iniziassimo un po' a farci qualche chiacchierata approfondire no? le è venuta un po' voglia di raccontarsi e poi da cosa nasce cosa abbiamo fatto tanti incontri online poi ovviamente fisici ci conoscevamo già da tanti anni perché io comunque la seguivo per il giornale per la Gazzetta di Parma nelle sue avventure internazionali e quindi è nato così poi ovviamente la prima volta per me la prima volta per lei figuratevi abbiamo iniziato con un grande sogno che poi è diventato realtà non so se era lo slogan di una pubblicità famosa o qualcosa di simile ma comunque è andata così Giulia confermi la versione del fratello meno famoso di Marco? no aspetta un attimo che vi siete saldati tutti ci sono? ciao Giulia allora siamo agli Aspriglias è una traduzione di questi ragazzi siamo collegati circa 5 minuti fa no 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 ci sono ok no e allora praticamente Andrea ci stava raccontando raccontando di come te l'ha menata per arrivare a scrivere questo libro quindi volevo capire anche da parte tua come hai vissuto questa menata di Andrea ormai Andrea lo conosco da un po' di te ho imparato a conoscerlo sempre di più come lui ha imparato a conoscere me io ho imparato a conoscere lui no dai a parte gli scherzi sì è stato Andrea che mi ha chiesto questa cosa però all'inizio è vero ho fatto resistenza poi in realtà mi ha convinto anche mi ha convinto soprattutto il fatto che lui me l'avesse chiesto e quindi il motivo per cui se me l'ha chiesto vuol dire che c'era qualcosa dietro quindi c'era qualcosa veramente da raccontare e ci vedeva ci vede ci vede ancora un un qualcosa di bello ecco altrimenti so che non l'avrebbe neanche chiesto allora ti faccio subito alcuni saluti dei propri followers che si sono collegati salutiamo Francesco che ti ringrazia per avergli firmato il libro oggi in piscina salutiamo Matteo e c'è un saluto qua alla tua mamma addirittura quindi portagli questo saluto di Riccardo e poi ci saluta anche Dario che è uno degli espriglias un fenomeno dello sport in basso e due fenomeni da brecconi in alto ha risparmiato grazie a Dario che mi ha risparmiato ma in realtà Dario ha una visualizzazione con Giulia in alto quindi ha fatto una gaffa incredibile esatto esatto ma ascolta Andrea raccontaci un po' ti faccio questa domanda io poi dopo lascio anche a Don Paolo per qualche altra domanda come avete lavorato per la stesura di questo libro e da dove parte diciamo il racconto certo allora abbiamo lavorato ci siamo visti e sentiti tantissime volte nel senso che la sua carriera sportiva la conoscevo molto bene e quello che mi mancava era quello che c'era fuori insomma si conoscevo anche quello ma insomma scavare soprattutto nel suo passato il racconto la storia inizia con con l'incidente il vero spartiacque della sua vita è bello perché parlo di lei come se non ci fosse ed è un capitolo grande non c'è l'hans guarda la telecamera sto guardando la telecamera davvero? sì 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 ah fantastico l'incidente che che è il capitolo primo quello un pochino più crudo che ha voluto raccontare nei particolari e questo ha spiazzato un po' anche me perché in effetti ma una lucidità nel raccontare quello che è successo e che che mi ha messo un po' in difficoltà nel senso se in altri fronti ero io quello che cercava di tirare fuori un po' il marcio che è quello che il lettore gradisce di più o comunque scoprire la Giulia meno conosciuta eccetera quando si è trattato di parlare dell'incidente lei è andata veramente nei dettagli con una lucidità una consapevolezza veramente incredibilità però insomma è stata una bella avventura anche questo ci ha messo alla prova credo entrambi perché lei si è aperta molto e io ho avuto a che fare con un materiale umano molto molto prezioso e quindi insomma mi sento in un certo senso un privilegiato ecco per aver potuto raccontare la sua storia l'impressione guarda ti confermo questa io non sono mai come sanno i follower degli Asprelias non sono mai molto tenero ma ho avuto anch'io l'altra volta parlando con Giulia ne parlo anch'io come se non ci fosse l'impressione di un grosso di un grosso spessore umano e per la tranquillità con cui raccontava anche episodi che insomma segnano una vita e che cambiano il corso delle cose quindi ti chiedo senza troppi fronzoli Giulia se ti è costato anche un po' metterti diciamo così a nudo e aprire anche pagine del tuo passato che immagino comunque siano alle spalle ma sono dolorose magari allora ti dico la verità che la parte dell'incidente è quella che a me fa meno male anche raccontarla in tutti i dettagli è una cosa che sembra assurdo ma mi piace perché comunque sono dettagli come dire pratici fisici e sono cose che si sanno e secondo me da una parte vanno anche raccontate per capire il contesto e quello che è successo io non avendo mai perso conoscenza mi ricordo tutto e soprattutto quello che io volevo sempre sapere era il fatto degli altri perché quello che io ho vissuto lo so quello che in realtà hanno vissuto gli altri no e quindi anche ricordare oppure ogni tanto si capita sull'argomento sono io quella che fa domanda agli altri perché voglio sapere come l'hanno saputo come hanno reagito e tutto quello che è girato intorno a quel giorno insomma a quel periodo vissuto dagli altri quindi il fatto di raccontarlo anche ad Andrea penso che lo possa confermare anche lui indipendentemente dal libro sapeva già tante cose quindi le ho sempre raccontate in quel modo lì poi magari per scrivere ovvio che ha dovuto conoscere qualche dettaglio in più però non ho mai come dire non è la prima volta che l'ho raccontato ok vi faccio l'ultima poi passiamo passo la palla a Don Paolo e magari anche qualche commento volevo capire se per voi questo libro è più diciamo così un racconto di sport o in assoluto un esempio di vita beh poi alla fine lo sport è una metafora della vita però il vostro obiettivo nel raccontarti era anche quello magari di nella condivisione di dare coraggio magari anche altre persone che hanno avuto queste problematiche di raccontare una storia comunque di grande forza e di grande direi un inno nella vita comunque perché comunque si va avanti nonostante le difficoltà qual era qual è stato il vostro obiettivo nel raccontare la storia prima Andrea poi Giulio l'obiettivo l'ha espresso lei in maniera molto chiara ed è stato molto bello cioè lei è una persona molto non so se esiste in Italia è risolta lei quindi non aveva questa esigenza di raccontarsi per far emergere anche per fare un lavoro su se stessa ecco aveva questa voglia una persona già in pace con se stessa esatto non ha conflitti risolti esatto e quindi i conflitti non li ha con se stessa li ha avuti solo con me ma comunque quindi lei l'ha voluto fare per risolti esatto risolti perché per gli altri cioè lei ha detto se la mia esperienza può servire a qualcun altro lo faccio molto volentieri e questa testimonianza che potesse servire l'ha sempre avuta negli anni perché Giulia non lo dice mai riceve molti messaggi molte mail di ragazzi e ragazze che conoscendo la sua storia trovano il coraggio per affrontare determinate problematiche e e quindi questo libro nasce per dire ok una volta per tutto mi metto a disposizione perché effettivamente può servire a qualcuno e quindi credo veramente al netto di ogni ipocrisia che sia una cosa molto molto bella volevo dire una cosa prima di passare la parola a Giulia l'incidente perché ci hanno sgridato giustamente perché ha detto ma chi non ha detto il libro se parlate di incidente uno pensa a un incidente in macchina allora l'incidente di Giulia è stato un incidente sportivo un infortunio sportivo lei era già pensate 23 medaglie tra le Paralimpiadi europee e mondiali già nazionale di trampolino elastico era si stava allenando nel 4 gennaio 2010 primo allenamento dell'anno per preparare un mondiale perché lei era già in nazionale di trampolino elastico e l'ultimo salto del primo allenamento dell'anno va storto diciamo si perde in aria e la forza del tappeto si concentra su un'unica vertebra e che esplode uso questi termini crudi perché sono quelli di Giulia non lo faccio perché per altro motivo e volevo precisarlo perché Giulia era già una campionessa e e ha trovato il modo per per continuare ad esserlo ecco questo secondo me andava detto perché magari qualcuno che ci ascolta non lo sa è giusto molto bello tanto questo mi fa anche pensare che probabilmente un giorno scriveremo noi degli Asprilia su un libro sulle sofferenze che ci provoca il Parma e tanti difusi del mondo probabilmente si sentiranno vicini vicini a noi come ti ha aiutato questo libro la tua storia Giulia però a me ricorda anche in quello che avete descritto adesso molto quella di Alex Zanardi no che è stato anche lui era un campione prima poi ha avuto un incidente ed è diciamo ha proseguito poi nel confermarsi in altre discipline con grande forza d'animo e tu hai avuto un non so così un punto di riferimento un esempio qualcuno e e poi magari tu lo sarai adesso per tante altre persone come diceva Andrea allora ritornando alla prima domanda del libro credo che Andrea abbia spiegato benissimo il fatto di far conoscere Giulia sinceramente non me ne può fregare di meno ma il fatto di ma noi sì noi vogliamo conoscere ma io adesso infatti mi racconto però non è stato il motivo del libro e quindi il fatto di far conoscere raccontare una storia e non c'è solo nuoto o solo cose che non siano nuoto è tutto c'è Giulia e c'è la storia quello che ovviamente mi ha portato ad oggi a vincere le medaglie ma soprattutto un libro anche pieno di anche tu come dicevi prima chi è stato il riferimento io un idolo sportivo inteso come wow uno si ispira a qualcuno non l'ho mai avuto ma neanche da quando ero piccola quello che a me ha aiutato tantissimo però è stato sicuramente la mia famiglia i miei amici che non mi hanno mai lasciato da sola ma è sempre stato un trovare il modo di fare le cose non mi hanno mai fatto pesare niente mai detto di no e quindi credo che sia stato questo la mia forza ed è tuttora questa comunque Giulia è praticamente è nata fatta e finita cioè quadrat cioè no è nel senso cioè sei brutalmente quadrata che a volte sei reggiana non avremmo scritto un libro insieme Lollo ottimo un'ottima risposta quindi io ho visto un evento che non ho mai visto verificarsi in anni di Espriglias cioè Don Paolo bere acqua durante una live quindi vuol dire che vuole mantenere un livello di sobrietà incredibile per Giulia e quindi chiedo a il risollevato subito quindi chiedo a Don falla tu questa domanda adesso ma adesso io la faccio ma adesso premetto che l'altra volta quando sei venuto ospite io ero in viaggio per lavoro non potevo partecipare ho bruciato come un falò perché da vecchio agonista avere per le mani una super atleta cioè fantastico ho in mente mille cose da chiederti e poi la data non mi era stata favorevole quindi sarei un mare di cose da chiederti una una che ti proprio perché ti vedo che sei bella dritta quadrata è che chi non l'ha mai provato non lo sa non lo sa cosa vuol dire fare la vita dell'atleta cioè non lo sa cosa vuol dire stare a dieta non sa le uscite rinunciare un sacco di cose e alla festa io sono quello che beve l'acqua e tu sono tutti quelli che si divertono mille più cose e poi specialmente come capita magari agli sport meno formosi o meno fortunati come esito di attenzione pubblico in Italia arrivi a una grande una stessa arriva a una grande competizione non fa il risultato che si aspetta e l'uomo della strada comincia a dire ecco vedi buono da niente quando c'è gente che non capisce che anche solo qualificarsi a certe competizioni è una cosa incredibile tu come lo vivi questo atteggiamento te ne freghi sei talmente forte probabilmente sì che tu tieni dritto per la tua strada o è una cosa che in un modo specialmente al giorno d'oggi dove la voce diciamo dell'uomo sdraietto sul divano con la pancia e la canottiera grazie ai social si fa sentire molto più forte allora dal punto di vista come dicevi più di far vedere la prestazione a livello anche di media diamo sempre la colpa ad Andrea alla categoria dei giornalisti quindi quello noi possiamo fare quello che sei lì sei in gara e tutto quello che viene raccontato sicuramente sì dipende da noi perché dobbiamo dare materiale ma non sempre dipende da noi e anche il fatto di sport minori sicuramente anche lo sport paralimpico è raccontato meno è vero che negli anni è migliorata tantissimo questa cosa c'è molta più attenzione però sicuramente non sei ancora a livello di tutti gli altri sport poi invece dal punto di vista di come io vivo questa cosa da atleta non mi pesa perché è una cosa che ho scelto mi è sempre piaciuto ogni tanto dici eh vabbè devo andare a letto perché magari domani mattino allenamento mi sveglio presto quello sì però è magari quella volta che dici ok oggi ti pesa quella volta lì ma hai un obiettivo talmente grande talmente che ti regala più che altro talmente tante emozioni eh che è più grande di tutti più che sacrifici alla fine sono scelte io credo e quindi sicuramente devi dire di no devi fare molte scelte devi prendere ehm combatti col tempo combatti col calendario molte volte però però lo fai volentieri ascoltate io prenderei qualche commento salutiamo eh Mauro che è un nostro follower e sostenitore bellissimo questo format eh è comparso Matteo Caselli eh che subito ci va di di fioretto e poi visto che per dare prova della sua dimestichezza informatica ciao a tutti penso fossero tutti grazie Giulia lui è quello di cui ti parlavo nel backstage è il protagonista di connessioni improbabili eh però no fa una domanda eh di Matteo che leggiamo subito dopo perché nel frattempo ci saluta anche il frattempo di di Andrea Matteo ci chiede è una domanda seria che quindi pongo ad Andrea il libro sta ottenendo un'attenzione molto forte vi aspettavate di ricevere un'accoglienza così calorosa? Chi risponde? No no tu Andrea Andrea allora allora è vero e siamo un po' effettivamente come dire sbalorditi da tutta questa attenzione e il libro ha avuto un successo veramente notevole ma cioè lo dico quasi in maniera da cronista vorrei veramente però è andato in ristampa ma il cronista di te stesso sì no è imbarazzante però è andato in ristampa dopo due settimane il merito è di Giulia perché Giulia ha un seguito veramente particolare e lo vediamo durante gli incontri il calore che c'è che veramente è al di là di una presentazione di un libro cioè si creano veramente delle connessioni molto belle però onestamente io dico un'attenzione di questo tipo non me la immaginavo però ero consapevole del fatto che la storia di Giulia era molto potente che Giulia è molto potente oltre che come atleta come donna e quindi sì mi aspettavo che potesse attirare l'attenzione così tanta noi siamo veramente molto contenti ma soprattutto perché si creano delle occasioni veramente molto belle cioè banalmente anche la chiacchierata di questa sera ieri eravamo all'università e abbiamo fatto delle serate cioè veramente vengono fuori degli incontri umani molto interessanti quindi è tutto molto bello lo stiamo godendo a pieno ecco e per noi secondo me è molto bello ovviamente noi siamo tifosi di calcio ma come ha detto Don Paolo siamo poi quasi tutti gli Aspilias in maniere diverse siamo sportivi amanti dello sport in generale e quindi è un piacere poter parlare anche di altro ti chiedo su quello che hai detto quale secondo te a parte ovviamente questo incipit che immagino abbia una forza nel lettore molto molto importante perché appunto racconta una storia anche cruda come hai detto tu quali sono i passaggi del libro che reputi più più forti nel senso proprio che hanno più appeal e che hanno anche diciamo così un senso più profondo diciamo Allora credo che in questo libro parla sia della sua vita privata e sia della parte sportiva dove non manca una manifestazione diciamo importante e quindi quello che è l'appassionato di sport può godere dei capitoli dedicati alla sua come dire scalata sportiva e chi invece è interessato più alla persona secondo me può godere dei capitoli dove lei racconta della sua vita fuori dalla vasca e dove non fa mistero delle difficoltà per esempio avuta a scuola dove quando lei dice non è l'incidente il mio problema il mio problema è il dopo Giulia cioè quello che mi ha fatto veramente soffrire non è l'incidente quello che mi ha fatto soffrire veramente gli amici che sono spariti e i compagni di classe che hanno un pochino strumentalizzato la mia situazione e poi mi hanno voltato le spalle e quindi questi aspetti forse anche devo dire una cosa di Giulia che apprezzo moltissimo cioè non c'è pietismo e commiserazione in lei in nessun modo e quindi lo rigetta anche quando lo vede dalle altre persone e credo che ci sia una connessione trasversale lungo tutto il libro veramente credo non ci sia una parola di pietismo sulla condizione di Giulia e questo secondo me non sarebbe uscito il libro non sarebbe uscito il libro ecco questa è un'altra cosa esattamente perché Giulia non è una che legge il libro e dice sì sì va bene vai andiamo tutto a posto così cioè è altro che virgole nel senso che cioè veramente ha guardato ogni minima cosa e sono state fatte tante modifiche abbiamo fatto delle buie della madonna e però ieri all'università e corso di cioè ho tu poi coglioni una marea però si hanno detto è il conflitto che porta alle cose positive bene quindi no no ma è una cosa molto apprezzabile cioè è una cosa seria questo libro è un'autobiografia sportiva scritta in prima persona da Giulia e come ha detto sua nonna e il giorno io sono andato quando hanno stampato il libro anche noi volevamo vederlo perché non lo sai fino a quando non lo vedi ho andato a casa sua mi ha accolto sua nonna nonna Luisa persona dolcissima e sulla porta mi ha detto stanotte ho letto il libro ed è lei è Giulia e io a quel punto lì con quella recensione lì mi sono messo il cuore in pace perché ovviamente ero esageratamente in tensione perché hai fatto l'olvero sì no è andata bene però Giulia è una perfezionista lo è in vasca e lo è anche fuori ho detto perfezionista sicuro la tecnica in maniera maniacale non può perché esatto beh ma d'altra parte credo che quando esce un libro che parla in cui tu sei il protagonista mi sembra che è normale che il protagonista voglia essere sicuro di quello che si dice e quindi insomma mi sembri molto meticolosi in ogni aspetto della tua vita da quanto capisco Giulia è un pregio o un difetto questo e può essere tutte e due dipende dalle volte dipende da come lo leggi da questo punto di vista sì io volevo avere tendo ad avere molto il controllo di quello che succede a me su di me proprio perché non mi piace che escano cose in cui io non mi riconosco e quindi il problema non è di quello che leggono gli altri ma è quello di quello che leggo io e io mi devo riconoscere in quello che c'è scritto quello forse è stato un po' non il conflitto il fatto che io non mi riconoscessi però certe cose c'è il solito conflitto di chi scrive che vuole non ti dico romanzare un po' però questa cosa qui va raccontata in un certo modo e io ma no ma secondo te sono molto più essenziale ecco essenziale riservata e quindi anch'io ho fatto le mie fatiche e in tanti punti mi sono anche fidata è vero tanti glielo ho tolti tanti anche Andrea giustamente metteva dei paletti se no ognuno ha fatto un po' il suo lavoro e come è giusto che sia e quindi da questo punto di vista siamo cresciuti insieme è proprio stato scritto veramente a quattro mani hai detto lo sbatto qua intanto il libro e invito i nostri i nostri follower a comprarlo tra l'altro molto molto bella la foto vai pure avanti Don poi faccio una domanda Giulia ha detto essenziale riservata e quindi io ho due domande per te adesso ormai quello che ho fatto è fatto tu il libro l'hai pubblicato e quello che c'è dentro c'è dentro ma riguardando a posteriori riguardando a posteriori c'è qualcosa che ti viene da dire cavoli se solo un anno fa qualcuno mi avesse detto che avrei raccontato a tutto il mondo questo aspetto della mia vita ma col cavolo cioè oddio ma l'ho fatto l'ho raccontata davvero sta cosa allora raccontarlo davvero no però tante cose che dici avrei potuto mettere avrei scritte in modo diverso più lo leggi più pensi e su quello sì però alla fine sono cioè in 200 pagine non ci puoi dire tutto non puoi raccontare tutto non vuoi raccontare tutto anche perché credo che certe cose sicuramente rimangono un po' per la diretta un po' per riservatezza comunque sei sempre una persona e chi ti sta intorno poi le sa e ci sono la cosa che a me piace molti punti che fanno venire fuori almeno come sono fatta io che non sono troppo diretta lascio abbastanza intendere e e quindi se capisci bene se non capisci mi dispiace sicuramente sei abbastanza diretta meno male che non sei diretta e su certe cose però devi capire sono diretta ma devi capire ok io ho una domanda scusami ne avevo due vai 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 scusami erano due faccio un'altra che probabilmente ti avranno già fatto in tanti e se sei troppo scontata fai bene insultarmi visto che sono essenziale e la fama il fatto che comunque tu adesso sei una persona famosa di una città piccola tu giri in città io mi immagino la gente ti ferma ti saluta grande Giulia facciamo selfie oppure cominciare a farti le foto figo ho visto la ghiretta come vivi tutto questo essendo essenziale riservata te l'hanno già fatta lo so sta domanda lo so porta pazienza non è così tanto come come sembra poi io non me ne rendo non me ne rendo conto non mi reputo quella famosa per cui tutti ti fermano la vivo molto molto normale anzi mi fa ancora strano quando quando mi fermano comunque mi fa un sacco piacere però mi fa sempre strano la mia domanda invece era legata secondo me poi dico una forse una banalità uno dei tuoi marchi di fabbrica di riconoscibilità è questo sorriso che è molto contagioso che hai è molto bello e anche la copertina penso lo fotografi molto bene questa foto mi piace moltissimo volevo chiederti come avete scelto poi l'immagine di copertina come o perché avete scelto quest'immagine da un'altra perché qua in questa immagine di copertina io vedo una ragazza normale nel senso non vedo l'atleta in piscina no quindi mi sembra che dia anche una dimensione diciamo così di una storia normale di una ragazza che mette anche in secondo piano quello che è l'atleta eccezionale che ha raggiunto non voglio dire delle stupidate Andrea magari mi corregge hai detto 23 medaglie se non sbaglio lo sa meglio Andrea quelle tra europei mondiali e paralimpiadi sì oltre 50 titoli italiani che lo dico io perché tanto lei non gli dice un record del mondo e un po' di record italiani sparsi quella no allora devo dire che mi fa molto piacere la tua lettura di questa copertina perché come vedi mi piace sempre ascoltare i feedback degli altri è stata una ricerca la copertina non facile ma devo dire la verità tutti d'accordo su quella foto subito e la scelta mia sorella la scelta mia sorella non volevamo cioè ha fatto lei la foto o lei ha scelto la foto di un fotografo per cui avevamo fatto uno shooting tempo fa per altre cose però guardando un po' le foto ci piaceva quella uno perché non volevamo una foto del nuoto perché se no sembrava proprio solo acqua solo sport solo biografia sportiva dopo esatto in realtà c'è tutto come dicevamo prima e soprattutto a me quello che fa piacere quello a cui tengo di più è la persona indipendentemente dalle gare da una carrozzina da qualsiasi cosa io credo che ognuno di noi sia una persona quindi quello che lì veniva fuori anche da quella foto è proprio come sono io anche la sedia l'abbiamo messa ma si vede poco perché non è una cosa che voglio nascondere ma che intravedi e quindi quella foto lì è stata scelta proprio per questo motivo e allora invece l'altra domanda sempre prendo la copertina la faccio allo scrittore e quindi da dove nasce il titolo sono sempre io cioè il sempre si riferisce a questo episodio quindi a un prima e e un dopo e intende sono dalla mia interpretazione sono io Giulia Ghiaretti indipendentemente dal fatto che sia io prima di un incidente sono a saltare sui tappeti o dopo con un problema che mi tiene su una carrozzina ma sono sempre la stessa persona questo era il significato o c'è anche un nonostante io abbia vinto l'impossibile cioè sono sempre io non è che sono mi sono montata la testa o mi sento un'altra perché ho realizzato questo allora innanzitutto grazie per queste domande perché non ce le ha mai fatte nessuno ma sono molto interessanti perché sono poi quelle dietro dietro le quali ci sono le discussioni maggiori cioè voi immaginate la scelta di un titolo la scelta di una foto di copertina cioè è lì che noi no sono volati i bicchieri i piatti ma no ma allora sulla foto ragione Giulia la forza incredibile di questa foto e considerate che di foto Giulia belle fatte professionalmente ne ha tantissime su questa foto nessuno ha avuto da chi ridire neanche un editore cioè allora questo libro ha anche un grosso editore non per meriti nostri ma per meriti di diciamolo di Carlo Ferrari della Mondadori dell'Eurotorri che quando ha saputo cosa ha detto no ma mirate più in alto e ha detto dovete provare a mandarlo a PM che è l'editore giusto per questo libro poi abbiamo dato tre capitoli gli ha detto ci piace andate avanti eccetera un editore capitoli però vabbè eh cosa poi sono cambiati tutti i capitoli che hanno letto sì poi sono cambiati i capitoli ma non se ne sono accorti e no a parte gli scherzi però un editore così grande dopo mette becco veramente su tutto e la foto la decide l'editore e su questa foto neanche un editore come PM ha detto niente ci ha detto questa è la foto passando al titolo c'è stata più discussione allora non vorrei essere presuntuoso posso azzardare che il titolo l'ho proposto io Giulia o ricordo male forse l'ho proposto io però in effetti a un certo punto non convinceva più neanche me perché la Giulia mi ha detto sì però è un po' presuntuoso sono sempre io cioè non sono la pellegrini no a livello di come fama no e può rischiare di essere presuntuoso però aveva una grande coerenza con quello che è Giulia cioè incidente non incidente carrozzina non carrozzina campionessa non campionessa tutti quegli elementi che voi avete portato a me non mi interessa cioè io voglio essere considerato come hai detto poco fa per la persona che sono e poi questo è anche un tema che apre date il capitolo di libro dove lei si circonda poi delle persone che dimostrano poi di esserle vicino per motivi che non sono legati magari alla sua fame eccetera quindi il titolo è veramente quello che ci ha messo più in difficoltà però alla fine l'editore ha detto mi piace molto anche a fronte di altre proposte e altre persone di fiducia hanno detto andate avanti su quello perché funziona e quello è stato e alla fine poi Giulia cosa dici ci siamo riappacificati anche completamente anche noi su questo titolo perché abbiamo capito che nessuno ne coglie è una presunzione ma tutti ne colgono il valore appunto intimo di quello che vuole essere non so se mi sono spiegato perché come al solito vorrò fatto 200 parentesi però Luca un attimo bene grazie anche io all'inizio ho detto assolutamente no questo titolo non ho capito niente no anche io all'inizio ero molto titubante questo titolo devo dire la verità però non ne trovavo un altro anche a pensarci una cosa per me è difficilissima a un certo punto abbiamo capito che andava bene soprattutto anche visto insieme alla foto secondo me ci ha convinto ancora di più questa cosa vedere l'insieme di quella copertina ci ha fatto capire che era quello giusto poi anche con i colori della foto il sottotitolo che lì quello è stato cambiato in realtà perché inizialmente era la mia rinascita ed è una cosa che a me non piace anche perché secondo me andava in contrasto soprattutto con il titolo e quindi l'abbiamo cambiato con rivincita riprendendo anche un attimo le gare il fatto della competizione quello come l'incidente il nuoto erano un po' le parole chiavi che in qualche modo dovevi mettere per far capire un po' il contesto anche se non mi piacevano troppo all'inizio però le devi mettere dopo la copertina tutto quello che è devo dire che già in foto ci è piaciuta a vederla dal vivo sì abbiamo capito che era quella giusta comunque Andrea ha detto Pellegrini Motizi Pubella è più simpatico quella della Pellegrini tal di no perché no perché cioè la Pellegrini se la tirano e poi non è che hai vinto meno della Pellegrini cioè adesso mettiamo i puntini su lei mettiamo e poi gli astriglias non c'è mica mai andata la Pellegrini cioè allora non credo non sono neanche un po' campanilisti con gli astrigli di Parma neanche un po' esatto esatto ma infatti voi non siete tifosi del Parma siete tifosi di Parma mettiamolo esatto cosa cambiamo esatto esatto no ti faccio quelle domande lì Andrea perché siccome io ovviamente tu sei un professionista io sono un amatore mi piacerebbe sia fare le foto che scrivere per 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 la parte musicale diciamo così ma so che quando poi tu vai a rivedere rileggere continui a a rimuginare no sulle tue cose poi ti fai cioè ti viene l'idea no dici magari bello sono sempre io poi dopo ti vengono i dubbi e continui a risentire il titolo e magari un po' ti stufa anche quindi non è facile in realtà secondo me arrivare al compromesso finale ti faccio l'ultima domanda da parte mia volevo sapere se era la tua prima esperienza su diciamo così campo lungo cioè su un libro o se le avevi già perdonami l'ignoranza magari no perdonami mi state facendo le domande bellissime davvero perché sono sono quelle cioè veramente vere su cui ci siamo messi in gioco quindi è molto bella la tua domanda no è stato un gran casino per risponderti nel senso che il passo delle 3.000-4.000 battute 2.000 dell'articolo di giornale peraltro sempre meno perché gli spazi editori sono sempre meno è un passo completamente diverso io pensavo di aver meno difficoltà sono andato un pochino in crisi perché ovviamente io ero abituato a raccontare le storie delle persone in 3.000 battute cioè incontrare una persona starci del tempo assieme fare tante domande entrare nel presente con lui e in 3.000 battute raccontare la sua vita raccontare in un libro di 210 pagine è completamente diverso è completamente diverso c'è un altro mestiere un altro mestiere e quindi ho avuto le mie difficoltà ma non ha senso nasconderle questo libro nasce con le prime interviste nel 2020 a marzo è uscito a febbraio di 2023 questo dice tutto ma d'altra parte era la prima volta per tutti quindi ci dovevamo ci dovevamo ci dovevamo come dire prendere la misura e però e poi immagino fosse anche tra virgolette un beside delle vostre attività principali nel senso che questo è un altro tema sei un giornalista lei è un atleta professionista quindi anche fa conciliare i tempi gli spazi immagino sia facile quello è stato complesso e il covid ci ha aiutato dopo invece è stato complesso quando c'era Giulia il momento delle riletture e lì cavolo veramente un casino eh le notti le ultime notti e poi senza dirlo a nessuno perché non è che il giorno dopo cioè l'abbiamo tenuto devo dire l'assisto e quindi magari facevi gli orvi stavi in casa morta cosa hai fatto niente però non puoi dirlo quindi era quella cosa di cui insomma io quando esatto io poi quando sono andato in crisi con la scrittura allora ho detto scrivevo la sera ma sarà perché sono stanco allora scrivo la mattina presto che il cervello funziona bene no è solo che mia figlia si svegliava sempre prima no sembrava farlo apposta quindi magari prima mi svegliavo alle 5 avevo 3 ore per scrivere poi dopo 2 ore e mezza 2 ore fino a che dopo si è cominciata a svegliarsi alle 5 e mezza allora è tutto questo gran casino sul rileggere le cose e rimuginare perfettamente ragione la più grande tortura di questi 3 anni è stato rileggere il libro stampato una tortura io non l'ho ancora fatto lei non l'ha ancora fatto e le auguro di non farlo no ovviamente sì perché rileggere lo stampato tu vorresti modificare sempre le frasi i termini qua poter ascorrere meglio e la ripetizione vedi ripetizioni ovunque è una tortura ma sempre per il fatto che siamo uno più critico dell'altro sul nostro lavoro ragazzi vai tu con la domanda Giulia che vi voglio fare entrambi allora giustamente come ha detto Andrea il libro via via subito è privo di di buonismi pietismi vuole raccontare le cose le cose come stanno quindi voi accogliete il lettore con un bello schiaffone i denti gli raccontate non do crudo l'incidente e l'infortunio di Giulia come è stato è stata una scelta fin dall'inizio cioè per la serie boh io ve lo racconto così capite che io non faccio finta di niente ne so parlare ne posso parlare adesso parliamo poi di quello che vi voglio dire veramente cioè per la serie ve lo racconto così poi vi dico altre cose che vi voglio dire o è venuta dopo come dire ma sai che quasi quasi lo mettiamo all'inizio allora io direi che ti lascio la parola ad Andrea perché quello che è stato all'inizio il lavoro è ci siamo detti parliamo a ruota libera poi vediamo cosa sceglie perché ovviamente c'è una selezione anche delle cose che magari io e lui avremmo fatto scelte diverse poi condivide dopo sicuramente anche su questo perché non è che puoi scrivere tutto e quindi l'idea iniziale era andiamo a ruota libera parliamo di tutto poi facciamo la selezione sull'impostazione dei capitoli lascio la parola ad Andrea perché l'ha fatta lui sì no ti confesso che è stata una scelta puramente narrativa quindi ho creduto e poi Giulia l'ha condiviso che funzionasse da un punto di vista narrativo perché lei quel pomeriggio era con la famiglia al Fidenza Village pubblicità scusate a fare shopping diciamo in serenità le vacanze natalizie tutto e poi dopo va a questo primo allenamento dopo aver mangiato di fretta e furia quindi dalla serenità al dramma insomma mi sembrava funzionasse da un punto di vista narrativo e mi aiutava anche nel senso sì mi aiutava anche quello che hai detto tu cioè me lo tolgo anche un po' di mezzo e poi dopo così ho la possibilità narrativamente di dirti cosa c'era prima cioè sicuramente l'operazione la lunghissima riabilitazione di mesi e mesi e mesi poi dopo ti torno indietro ti racconto la Giulia poi dopo ti spiego come però devo dire è stato un po' più strumentale no è narrativo che è come dire proprio sul contenuto o su una questione magari emotiva o altro io Don farei un'ultima domanda che non c'entra una mazza con tutto quello che vi ho detto fino a questo momento ma è giusto così è giusto così come la zanzara insegna le scalette non esistono gli argomenti non esistono e vi lascerei anche a dare perché siete stati gentilissimi a dedicarci tutto questo tempo troppo volevo chiedervi visto che comunque siamo su un canale di che parla del Parma Calcio dei tifosi del Parma volevo chiedervi qual era il vostro rapporto col 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 Parma e e col tifo per la squadra della vostra città se ce l'avete se non ve ne frega assolutamente nulla sarebbe anche comprensibile e vi risparmiereste peraltro un sacco di pene quindi allora dobbiamo aspettare il libro oppure no delle sofferenze no 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 io non ho l'intenzione di scrivere libri a breve anche perché anche il mio di bambino ha lo stesso problema con quello di Andrea quindi se vi dovesse raccontare dei miei durante il periodo del lockdown i bambini e gli inconvenienti dei bambini durante il lockdown nel lavoro non finiremmo più lì forse parlando di questo forse lì sfonderemmo veramente no e volevo sapere tu Andrea ad esempio sei tifoso segui il Parma ti piace o te ne puoi fregare bene no no lo seguo e non sono non sono uno sfegatato nel senso che non frequento lo stadio ho avuto l'abbonamento qualche anno in curva da giovanissimo col papà di un mio amico in curva sud quando non c'erano solo gli ospiti mi ricordo un tempo sì esatto perché era un pochino più protetto mi ricordo quindi andavo le medie ero sfegatato del Parma ovviamente delle imprese di scala come tutti i bambini io sono un 85 e quindi per me andare in cittadella sì ho un po' il rimpianto di non aver avuto in quegli anni una consapevolezza superiore se avesse avuto quei 4-5 anni in più sarebbe stata una cosa incredibile perché se oggi si ripensa l'idea io dico una banalità per un contesto come questo però una squadra che vince in Europa che si allena in cittadella davanti a tutti con quei campioni cioè è quella lì la bellezza dello sport punto non c'è altro mi emoziono quasi a dirlo ed è veramente un enorme dispiacere il fatto che non si possa vedere un allenamento che è tutto a porte chiuse persino per i giornalisti che cioè veramente e io credo che sia questo un po' quello che mi ha allontanato nel senso guardo le partite se ne salto una però fa lo stesso e guardo sempre i risultati confesso che sono anche un pochino tifoso del Milan perché uno dei miei più cari amici tifoso del Milan e me l'ha attaccata però diciamo che ho vissuto l'epoca di scala per intenderci e anche un po' poi di Ancelotti eccetera e quell'epoca lì secondo me è quella a cui il calcio deve ritornare ma come deve ritornare poi gran parte della nostra società cioè non ha senso che il calcio sia veramente così lontano dai dai tifosi veramente mi sembra una cosa incredibile soprattutto in una realtà come il Parma nel senso che magari già il Milan è una realtà molto più internazionale però sì e poi questa proprietà adesso non vabbè è un tema che mi piace molto figurateci figurateci che sono un giornalista sportivo non mi occupo di calcio però ci parlerei una vita cioè questa società che ha soldi ma a non finire perché adesso diciamocello anche quello che sta facendo a Collecchio con quel centro sportivo cioè ha soldi a non finire veramente usati male si può dire ed è veramente una ridono un po' vendita diciamo sì perché potremmo veramente farla in testa a chiunque eccetera c'è uno scollamento cioè c'è uno scollamento gli abbonamenti poi tornano indietro perché avevamo capito avevamo fatto una c'è uno scollamento con la tifoseria che è incredibile però diciamo chiudo dicendo che io su Facebook alla pagina ufficiale di Facebook di Gigi Buffon per ben due volte quando lui ha lasciato la Juve perché l'ha lasciata due volte una era andata a Paris Saint Germain e poi era venuta in Parma avevo scritto dicendo di non considerare le sirene di grandi club ma di considerare le sirene di Pepin e alla fine la seconda è venuta al Parma e ho gli screenshot non mi ha mai risposto ovviamente però sono convinto che sia venuto a Parma per questo messaggio ha pensato al carreco il cavallo piccante di Pepe e ha detto penso che sia per quello insomma tu Giulia meno male che c'è Andrea che è chiamato Buffon esatto no allora io devo dire che il Parma lo andavo a vedere col nonno quando ero piccola e quindi con tutti i nipoti i miei fratelli i miei cugini eravamo sempre in tribuna col nonno che ci portava a vedere il Parma quando io mi ricordo ho la scena in testa di Buffon a metà campo praticamente accovacciato che aspettava perché si giocava solo dall'altra parte del campo e quindi questa è l'immagine l'immagine del Parma che era piccola in curva c'è stata una volta per vedere Parma-Milan 4-0 che gli abbiamo rifilato eh non mi ricordo però però mi ricordo che ero in curva ero gazzata perché ero in curva io, mio papà e mio fratello tra l'altro adesso sono andata mi hanno regalato tra l'altro anche la maglietta Ghiretti quando sono tornata dal mondiale a settembre adesso quindi a me diciamo che andare allo stadio a me piace andare a vedere lo sport al vivo quindi un po' tutti ti regalano quel qualcosa che la tv diciamo così mette lo schermo hai ragione hai ragione perché il credo non ci sia niente come vedere un gesto sportivo eseguito dal vivo per rendersi conto di effettivamente qual è il valore anche di tutto quello che ci sta dietro della preparazione dello sforzo e anche della capacità di fare cose che almeno tre persone in questa chat non sono in grado di fare ma tu sì tra l'altro quando mi è andata la maglietta devo dire la verità ho avuto l'onore di andare in campo per la prima volta è arrivato Buffone ma ha dato i pugni quindi dopo il riscaldamento prima di fare la partita alla grandissima beh io vi inviterei a venire su questo canale ogni volta che voi lo volete per quando sentite bisogno di dire ma io basta devo collegarmi devo dire la mia con gli aspriglias guarda non siete timidi diremo la nostra siete invitati vi inviteremo assolutamente al nostro prossimo raduno ne abbiamo fatto uno che è stato molto divertente quindi vi inviteremo a mangiare un po' di torta fritta con noi e invito tutti mi raccomando a sostenere questi ragazzi ad acquistare questo libro bellissimo che racconta una storia bellissima scritto e diciamo così con un soggetto proprio parmigiano quindi che due ragazzi che fanno onore alla nostra città e che sono gentilissimi sono stati con noi e siamo stati molto bene o meno io sono stato molto bene voi no ma comunque questo me lo direte offline mamma mia sto andando in chiusura quindi puoi interrompere no fai tu la parte di Dario ricorda faccio il millennial della situazione va bene anche se sono più vecchio io va bene allora mi raccomando iscrivetevi al canale se questa trasmissione vi è piaciuta mettete like seguiteci su tutti i nostri social prossimo nostro impegno sarà sabato dopo la partita col Colomo prima di chiudere chiediamo alla Giulia qual è il prossimo impegno prossimo impegno sarà il mondiale a Manchester la prima settimana di agosto e quindi visto che qua siamo Sara Alex Ferguson giustamente il mondiale è Manchester Giulia beh allora ci sentiamo almeno dopo ci sentiamo dopo così ci racconti come è andata ci venire a fare un racconto come è andata voi fate le dirette durante le mie gare mettete in onda la gara vabbè se non ci bandano per violazione dei diritti di tutte quelle robe lì no no sono su youtube si mette il link e si vanno commenteremo con un'ignoranza mai vista un'arte a noi semisconosciuta avete Andrea con l'ignoranza ragazzi un saluto a tutti buona serata ciao Daniel Spriglias grazie ancora Andrea Giulia a prestissimo grazie ragazzi ciao a tutti ciao a tutti grazie